E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina torna al nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal medì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte soprattutto oggi ve l'avevo promesso su Twitter ci saremo aggiornati in maniera veramente dettagliata perché siamo in una settimana cruciale molto importante perché è una settimana in cui verranno annunciati i dati CPI e soprattutto ci sarà l'FOMC ma ci arriveremo tra pochissimo come sempre prima di partire il mio invito è uno che deve lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento e mi aiuta tanto col canale e se siete nuovi ricordatevi di iscrivervi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati insomma sapete i contenuti che faccio sono time sensitive ciò significa che vederli subito trovo maggiore applicazione che vederli già dopo qualche ora e soprattutto in queste condizioni di mercato se c'è bisogno di arrivare a voi velocemente riesco a farlo quindi mi raccomando detto ciò non perdiamo altro tempo e partiamo ovviamente date un'occhiata ai link che trovate qui sotto in descrizione con tutte le promo eccetera partiamo da terra e da Duwon perché effettivamente sembrerebbe che sia stato avvistato Duwon in Serbia l'ultimo mese questo appunto è quello che emerge dai quotidiani sudcoreani che ricordiamo sono in attesa di avere o meglio sono hanno emanato un arresto insomma sul pianeta terra non mi ricordo come si dice un mandato di arresto per appunto Duwon per frode insomma staremo a vedere sicuramente l'abbiamo visto addirittura in qualche live su youtube di qualche youtuber americano quindi mi fa un po' intendere come in realtà si prenda un po' gioco di tutto ciò rimane rimane insomma latitante in questo in questo momento staremo a vedere sicuramente anche questo qua è un caso veramente limite ma voglio passare direttamente a quelli che sono appunto i CPI i CPI sono appunto i dati riguardo l'inflazione americana in questo caso l'inflazione americana che ha visto una contrazione nell'ultimo periodo e ricordiamo l'ultimo dato il dato precedente che è stato 7.7 venivamo da un picco un picco che a questo punto potremmo definire insomma raggiunto perché era 9.1 lo vedete qua in estate dopodiché siamo andati in una fase calante ricordiamo bene come a settembre in realtà abbiamo avuto un decremento abbiamo avuto più difficoltà ecco a scendere nella fase finale ok del dell'anno rispetto a ottobre nella seconda parte nel secondo nel terzo quarto diciamo perché abbiamo fatto 8.5 8.3 8.2 a ottobre abbiamo avuto un bellissimo dato in realtà che è stato 8.7 ricordiamo che il la previsione era un 8 per cento e siamo scesi addirittura dello 0.3 per cento sotto quindi bene però è stato il mese insomma ottobre novembre dove noi siamo stati veramente presi male ok da tutti gli eventi esterni che abbiamo avuto quindi non abbiamo beneficiato troppo ok anzi quello che però di dato che sta per arrivare dovrebbe essere coditura con un consensus quindi con il dato di previsione di 7.3 quindi qualsiasi cosa che sarà al di sopra di 7.3 sicuramente il mercato non la interpreterà molto bene rimarrà appunto l'idea di poter riuscire magari a scendere le tour de sotto 7.3 se scendiamo sotto questa situazione ok che serve il consensus si potrebbe avere un un boost sicuramente sui mercati questo perché perché chiaramente entra in gioco no il concetto di l'inflazione è bassa si rientra in controllo e quindi la fed può rallentare con le manovre restrittive sui mercati a rischio ok questo è il concetto sicuramente se il valore sarà più alto di 7.7 ma la vedo molto complicata perché in questa fase comunque sta andando in maniera molto molto aggressiva sicuramente sarebbe un dato molto preoccupante soprattutto alla luce del fatto appunto che il trend tenderebbe a scendere così come vedete appunto come c'è stato questo picco cioè sono dati che storicamente dal 2018 non abbiamo mai avuto mai avuto completamente anzi addirittura pensate che a giugno 2020 eravamo arrivati circa poi vabbè le condizioni con tutta la pandemia eccetera però addirittura quasi in deflazione quindi per farvi intendere il motivo per cui siamo poi trovati a questa escalation dovuta a delle politiche veramente aggressive per riportare l'inflazione la cosa interessante di questo dato è che poi fra due giorni e 11 ore ci sarà l'fomc dove da powell andrà a parlare e dove powell andrà a spiegare a quali saranno poi attraverso degli statement quello che è la sua idea di interest rates hike quindi andrà ancora ad aumentare i tassi sicuramente sì nella prossima sessione del 14 appunto di dicembre alle ore 2 e 30 se non vado errato la cosa interessante è che vedete il mercato sconta un aumento di 0.5 non più di 0.75 come eravamo stati abituati nelle sessioni precedenti e questo è un ottimo segnale perché ne ha già parlato l'aveva già un pochino servita la cosa che sarebbe stata probabile aspetteranno i dati del cpi per confermare quello che è lo 0.5 se così fosse sarà una notizia comunque bullish sarà una notizia interessante per il mercato proprio perché alla luce del fatto abbiamo avuto un primo rallentamento della fed nei dati questo vuol dire che da ora in poi si andrà a invertire no assolutamente perché in realtà poi il nostro tasso di interesse lo possiamo mantenere alto per più tempo però sicuramente diamo un segnale di prospettiva che può darci il nostro top sull'incremento 0.5 sicuramente è la cosa più probabile del 74% lo 0.75 un 25.3 ripeto questa cosa dipenderà da quello che effettivamente ci diranno i dati poi sull'inflazione passando a quello che può accadere a noi vediamo i gainers delle 24 ore dovremmo stacks che fa un più 6% ton coin che fa un più 8 abbiamo trust wallet che fa un più 2 ape coin che fa un più 1 gmx che fa un più 1 1 sed leo e poi niente praticamente stable coin tra i losers troviamo osmosis che torna ad andare indietro meno 9% dodge coin meno 9 chili su meno 9 flow meno 9 apto su meno 7 questo perché in realtà la giornata di ieri è stata una giornata un po' confusionaria diciamo è ovviamente la domenica quindi non ci poteva aspettare granché volumi ancora estremamente bassi però vedete sull'orario che cosa è accaduto ci siamo andati a fare una una finta molto la classica ecco finta di bitcoin dove siamo andati a pescare un po' di liquidità a cercare qualche stop qua sopra sui 12.764 dopodiché siamo andati a completare la nostra barth questo accade spesso quando quando andiamo a fare questi pump e non troviamo continuazione lateralizziamo e quindi poi andiamo a completare vedete questa barth e tornare insomma in questo range qua dei 16.9 adesso siamo un po più alti 16.943 abbiamo toccato i 16.880 vedete soprattutto i volumi di dump che sono arrivati alle ore 1 ok che ci hanno riportato proprio al di sotto dei 17.000 dollari ovviamente parliamo di poco stiamo parlando di un meno 08 sul daily appena aperto però insomma questo è stessa cosa è accaduta per ethereum vedete il grafico sembra che non l'abbia cambiato ma è perfettamente speculare stessa cosa pump abbiamo avuto anche qua una finta siamo riavvicinati sulla zona appunto dei mille e mille tre mille nove e siamo andati a essere rigettati e ritornati nel range questo perché in realtà il mercato a mio parere ovviamente non sono consigli di investimento finanziari sta aspettando banalmente tutta questa cosa di questa settimana che sicuramente genererà molta volatilità che sicuramente nel nostro ambiente macro su bitcoin ci porterà a capire se riusciremo a riattaccare questa zona a mio parere se fosse stato positivo sopra addirittura 17.5 potremmo tornare davvero sui 17.6 barra 18.2 insomma in questa zona qua se vogliamo essere molto molto bullish passatemi il termine potremmo riattaccare 18.2 18.5 insomma in questa zona qui abbiamo questo cluster di liquidità questa è un po' la mia la mia visione sicuramente all'interno del contesto siamo in una wedge molto importante siamo a metà della nostra wedge e essendo una falling wedge potrebbe essere una struttura un pattern di inversione chiaramente per attivarsi deve avere quello che è un trigger interessante un trigger importante una narrativa importante all'interno del mercato che possa fare appunto sì che questa questa wedge si vada a concretizzare però è chiaro che tutto ciò lo abbiamo da una scorrelazione ok una non correlazione con eventi diciamo esterni al nostro settore quindi abbiamo o meglio seguendo eventi esterni al nostro settore positivi e non essendo coinvolti in atti propriamente isogeni nostri come abbiamo visto tutti questi casi ftx luna e tutta questa situazione qua che ci hanno portato davvero a essere molto bearish ok quindi molto aggrediti all'interno proprio solo del settore cripto staremo a vedere sicuramente in chiusura volevo farvi vedere quello che è S&P 500 che si trova anche lui avevamo disegnato in questo questo canale ok più che altro ascendente dove vedete siamo stiamo lottando con questa con questo supporto media di 50 che si sta tenendo chiaramente dovete sempre tenerli in riferimento queste strutture non sono perfette potrebbero recuperare insomma però questa è la visione e questo è appunto quello che credo possa succedere il ritorno all'interno di questo range qualora è l'attacco i 4100 un ritesto i 4100 qualora appunto venisse confermata un'inflazione molto bassa nel contesto di previsione e soprattutto di conseguenza la manovra di Powell detto questo fatemi sapere anche cosa ne pensate qui sotto nei commenti io mi fermo e vi auguro intanto a tutti un buono video ricordatevi un like che mi aiuta tanto col canale ciao ragazzi